www.feyyaz.tv Il mondo si suddivideva in me e i tempisti. Vedevo teppisti novantenni, teppisti neonati, erano tutti teppisti e questa è stata una delle mie molte crisi. Lui si è preso sulle spalle l'angoscia di cui ha liberato noi. Non sapete che cos'è il buio. Sono arrivato a scrivere 15 storie contemporaneamente per 15 disegnatori diversi. Lavoravo notte e giorno. Lui si stava veramente massacrando e la situazione stava veramente deteriorando. Faccio solo del bene all'umanità, non scrivendo. Si è reso un esibito. C'è, però è come l'uomo mascherato. Però era così bella, ho detto, ora. Nessuno siamo perfetti, ognuno abbiamo i suoi difetti. Lavoravo notte e giorno. Lavoravo notte e giorno.